Chiudete gli occhi e iniziate a rilassarvi. Trovate una bellissima sistemazione comoda? Chiudete i vostri occhi e sentitevi sempre più rilassati. Iniziate ad ascoltare il vostro respiro. Il respiro che entra e il respiro che esce. Ascoltate il vostro respiro. E a ogni respiro siate sempre più liberi, sempre più rilassati. A ogni respiro sempre più rilassati. E ad ogni respiro vi rilassate sempre di più. Portando la mente a uno stato di relax totale. Siete sempre più rilassati. Sempre più leggeri. Il respiro è sempre con voi, da tutta la vita. Il respiro ricarica le vostre cellule. Le purifica. Il respiro vi dà energia. Il respiro vi dà consapevolezza. Il respiro purifica ogni parte del vostro corpo. Il respiro guarisce da ogni cosa. E il respiro è vita. E il respiro è vita. Il respiro è sempre più rilassati. Il respiro sarà più fottile. oppure un cambio di temperatura perché l'attenzione crea energia quindi sarà normalissimo sentire una leggera pressione al centro della vostra fronte dove è la vostra energia accogliete qualsiasi sensazione abbiate sentito e adesso spostate tutta la vostra attenzione sul cuore tutta la vostra attenzione sul cuore dovete percepire il vostro battito se la vostra attenzione sul cuore percepirete il vostro battito potrete ringraziare anche il cuore perché tutta la vita che è insieme a voi e grazie al suo battito state vivendo prendete atto di quello che avete ascoltato con il vostro cuore e spostate l'attenzione sotto l'ombelico circa tre dita sotto l'ombelico tutta la vostra attenzione è spostata sotto l'ombelico sul punto chiamato tanden e anche in questo caso se tutta la vostra attenzione è sul punto sotto l'ombelico potrete sentire una pressione potrete sentire del calore un formicolio tutta la vostra attenzione è sotto l'ombelico ok adesso portate nuovamente la vostra attenzione al cuore adesso lo sentirete bello chiaro forte lo sentirete benissimo tutta la vostra attenzione è sul cuore il cuore che alimenta la vostra macchina il cuore che vi crea la vita il cuore che vi dà gioia e anche in questo caso oltre al battito potrete sentire un leggero tocco una pressione un formicolio siate sempre più rilassati sempre più tranquilli le tensioni si sono sciolte il vostro corpo è rilassato la vostra mente è pulita adesso fate un respiro e portate nuovamente l'attenzione sulla fronte sul centro della vostra fronte e anche qui dovrete sentire o potrete sentire una leggera pressione un leggero formicolio anche un leggero fastidio e tutta la vostra attenzione è sulla vostra fronte adesso vi chiedo di fare questo esercizio pensate mentalmente io sono e lasciate fluire le risposte dalla vostra mente quindi ripetetevi io sono e lasciate continuare la frase alla vostra mente benissimo la prossima frase che dovete pensare è chi sono chi sono e anche in questo caso lasciate fluire pensieri e trovate le vostre risposte la prossima frase sarà cosa voglio veramente quindi ripetetevela cosa voglio veramente e anche in questo caso lasciate fluire pensieri ogni risposta dovrà essere accettata anche quelle più strane adesso che la nostra consapevolezza è nella testa c'è un'ultima domanda da porre come mi sento quindi pensate come mi sento e trovate anche in questo caso le vostre risposte benissimo gentilmente portate la vostra attenzione sul respiro tornate nuovamente sul vostro respiro che entra e sul vostro respiro che esce il respiro che è sempre con voi in ogni momento della vita il respiro che entra e il respiro che esce concentratevi e rilassatevi adesso conterò da 1 fino a 3 e al 3 potrete aprire gli occhi e tornare al vostro presente consapevoli di tutte quelle risposte che vi sono arrivate durante la meditazione 1 vi iniziate a svegliare da questo torpore 2 siete sempre più presenti 3 potrete aprire gli occhi e portare tutto tutto quanto nella realtà presente a svegliare da questo a svegliare da questo a sapendo a svegliare da questo